Bruce Hunter, un'identità letteraria poliedrica, frutto dell'incontro tra molteplici richiami storici misti a un interesse tangibile per la quotidianità, secondo una prospettiva didattica volta all'osservazione puntuale. Attraverso innumerevoli apparizioni antologiche di poesia e anche di prosa, l'autore canadese intende ricercare indizi e riunire i tasselli di esperienze presenti e passate in frantumi, simili ricordi di vita e di storia altrui vengono resi sulla pagina mediante una voce sommessa, proiettata alla valorizzazione, pur nella concisione di una rappresentazione scritturale che non manca mai di essere attenta alla frammentarietà più profonda, insita in quelle stesse schegge di memoria. Dalla nota di Angela D'Ambra